La prossima settimana va in scena il primo giovedì lungo in Corso Libertà a Bolzano. 35 negozi terranno aperto fino alle 22, mentre per strada sono previsti spettacoli e musica. Giovedì prossimo 25 giugno, shopping serale fino alle 22 nella zona di Corso Libertà a Bolzano con intrattenimento e musica a ritmo di jazz, soul e funk. Nell'ottica di un rilancio dell'immagine commerciale di diversi quartieri cittadini, il City Marketing su iniziativa dell'Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige organizza il primo giovedì lungo in Piazza Vittoria, Corso Libertà e Piazza Mazzini. 35 negozi rimarranno aperti al pubblico fino alle 22. Quest'iniziativa, organizzata anche in collaborazione con l'assessorato ai tempi della città, si pone come obiettivo una sorta di rilancio delle attività commerciali di vicinato e contemporaneamente vuole offrire ai cittadini la sperimentazione di orari estesi e pertanto di tempo guadagnato. Altro obiettivo, quello di portare i negozi lungo Corso Libertà nel tempo a offrire in maniera continuata un orario di chiusura posticipato alle 20 il giovedì durante tutto l'arco dell'anno. In questa maniera il Corso offrirebbe un orario di chiusura posticipato di un'ora, una vera esclusiva per Bolzano con la possibilità di fare shopping e godersi un aperitivo lungo. Tra le tante iniziative in programma nella serata di giovedì 25 giugno, il Veteran Car Team di Bolzano offrirà uno spettacolo esclusivo con una gara di regolarità dei Fraser Nash, macchine d'epoca inglesi da corsa degli anni 20. I commercianti che aderiscono all'iniziativa per gli acquisti serali daranno in omaggio delle bottiglie di vino della Caltina Bolzano con un'etichetta esclusiva per l'occasione, oppure dei buoni consumazione per aperitivi o gelati. Per l'occasione il City Marketing ha ingaggiato una band itinerante formata da 14 musicisti.